E' un'indagine complessa però, questa è la sensazione, che non sia semplice. E' un'indagine complessa, abbiamo bisogno di lavorare con estrema tranquillità. In una città blindata per i prossimi due mesi, con presidi di tutte le forze dell'ordine, la conferma arriva dal procuratore capo Antonio De Donno. Si tratta di un'indagine complessa, evidentemente è tutt'altro che lineare, è proprio per questo il riservo sui progressi investigativi sull'omicidio di Paolo Stasi e Massimo. A poche ore dall'autopsia, fissata per sabato mattina, il mistero sulla morte del 19enne, ucciso in via Occhi Bianchi la scorsa settimana, resta irrisolto. Eppure, se la stampa abbrancola nel buio, la sensazione che procure i carabinieri siano sulla pista giusta. E' questo il primo aspetto emerso a margine del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto in trasferta dal prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni. Porte chiuse ai giornalisti, aperte invece ai capi gruppo consigliari, oltre che al presidente dell'Assise e al sindaco Antonello Denuzzo, pronti ad accogliere i vertici delle forze dell'Ordine e appunto quello Stato, la cui presenza era stata invocata anche dal parlamentare Mauro Dattis. Le indagini sono in corso, ovviamente sono coperte assolutamente da totale riservatezza e non possiamo dare indicazioni su quello che stiamo facendo. Ovviamente noi non possiamo entrare nelle vicende che attengono all'omicidio, ma vogliamo tranquillizzare la popolazione e dire che le forze dello Stato insieme al Comune sono presenti e continueranno a lavorare in questo territorio in forma assolutamente intensiva per almeno un paio di mesi. Già nella serata di giovedì quindi i controlli sono stati intensificati e così in città sarà per i prossimi mesi. Controlli che riguardano non soltanto il territorio in senso stretto, quindi con controllo a persone e veicoli ma anche ad esercizi commerciali, pub, locali in relazione soprattutto agli episodi della cosiddetta movida violenta. E allora a parlare a nome di una comunità scossa ma orgogliosa è proprio il primo cittadino. Questo ci impone come istituzioni rappresentative della città di Francavilla Fontana ci obbliga a promuovere un'azione che è più culturale, lo abbiamo detto prima, insieme a Sua Eccellenza il Prefetto, insieme alle altri operatori delle forze dell'Ordine che passerà attraverso le scuole, che passerà attraverso le agenzie educative di questa città.